Ciao raga! Ciao Pippo! Come? Senti, siamo stati zitti troppo a lungo. Esatto, stasera però ragazzi ci sono gli amigiani. Esatto, perché fortunatamente la verità viene sempre a galla. Sempre! Come bebi! Sempre! Perché sono successe un po' di cose questi giorni, no? Sì. Se ne saranno accorti? Spero, me lo auguro. Eh non lo so, perché sono un po' duri a volte a capire. Sì, mi sono accorta anche di questo, è vero, è vero. È fiducia però. Però mi sa che poi alla fine le persone false, vinte, ipocrite, costruite, vittimiste. Alla fine forse ragazzi, forse, forse, con un pianino. Non eravamo noi! Non eravamo noi! Avete capito o no? No, sorpresa! Dai ma noi vi mandiamo comunque tutti un bacione, ma soprattutto a quelli che ancora pensiamo di farla liscia. Alla prossima, con il vostro tour. Un po' che devo fare? Sì, stacchetto, jero, pilloroso, rosso. Bye!